C'è la parola, non per ultimo, ma forse il padre di questa iniziativa, la persona che con le sue pazze idee qualche volta ne inventa sempre una e ha iniziato a riflettere su questa situazione e a proporre questa campagna. E' stato detto che questa è una campagna che vuole riuscire ad ottenere un riconoscimento, quello del premio Nobel per la pace, alle donne africane nella loro totalità. Io vi inviterei quasi, vi chiedo scusa a loro, a queste nostre sorelle, a lasciar perdere queste donne qui che sono qui sul tavolo, perché loro in fondo sono conosciute, vengono in giro, viaggiano per il mondo, eccetera. Vi inviterei a pensare alle miriade di donne africane senza nome, senza storia, che pare che non esistano, ma che sono quelle che davvero reggono il continente proprio perché a partire loro sono l'espressione viva, vivente, cioè come dire la punta dell'iceberg di un universo femminile che regge questo continente. Io vorrei partire da un'emozione, sono un po' vecchio, quindi ormai sto rincoglionendo un pochino, però voglio partire da un'immagine perché tanti me l'hanno già sentita ripetere, ma un giorno ero Puccavo, una città in guerra, una città martire, 5 milioni di morti ha fatto questa guerra e ad un certo punto le strade di Puccavo si sono riempite di donne, forse un migliaio, forse duemila donne che camminavano e camminavano tenendo le mammelle scoperte e gridando non vogliamo più allargare i nostri figli per la guerra. Camminavano, gridavano, facevano vedere la loro voglia di pace, camminavano come camminano tutti i giorni, miriade, milioni, centinaia di migliaia, forse milioni di donne in Africa che la mattina vedete camminare lungo i cigli delle strade dove sprecciano le macchine oppure lunghi sentieri di questo continente portando sulla testa o una tannica per andare a prendere l'acqua o un cesto per andare al mercato portandosi sulle spalle i loro bambini, portandosi accanto i loro figli eccetera, camminavano, camminavano e vedendo quei piedi che camminano ti viene in mente che questi piedi sono i piedi che fanno camminare l'Africa. Per questo, cioè al di là di tutte le cose che possiamo dire, quest'Africa si legge su di loro, questo logo della campagna fa vedere che le donne portano il continente sulle loro strade e i fatti potrebbero essere tanti, sono state raccontate tantissime storie, ma in questi passi di queste donne sconosciute che camminano, che vanno, che c'erano il libro, che vanno per lavorare, per cortivare i campi, per curare la loro famiglia, per curare i loro vecchi, per trovare le medicine tradizionali per quando qualcuno si ammala, che fanno il microcredito, che hanno tirato fuori decine di migliaia di piccole imprese, eccetera, potizzando man mano tante piccole cose. In queste donne, in queste storie qui, sta la speranza del continente. È vero, la speranza del continente sta certo negli investimenti, in tutte queste cose qui, ma è lì che si regge, si dice la gran parte dell'economia della cultura africana. È in quel contesto lì che si rinnova tutti i giorni il miracolo della vita in Africa. E lei diceva, noi siamo le combattenti per la vita, siamo le combattenti della vita. Ecco, se c'è una cosa che caratterizza la cultura africana è proprio questo attaccamento spasmodico, direi quasi, non lo so, questo attaccamento di fondo alla vita. L'Africa si caratterizza per essere il continente che grida, nonostante le difficoltà, continuamente alla vita. Le donne sono l'espressione di questo grido, sono l'espressione che si fa carne in tante esperienze, in tante storie, e sono l'espressione che rendono, che fanno in modo che questo continente possa guardare al futuro, ma possa anche lanciare un messaggio a tutti noi che molto spesso siamo presi da tante cose, che mettiamo da parte le cose essenziali, che rischiamo di creare un'economia che non ha più niente a che fare con la vita, ma ha a che fare solo con i grandi sistemi, rischiamo di creare un mondo che non è più umano. Allora abbiamo bisogno di loro per recuperare questa globalità della vita, che si inserisce nella natura, che fa in modo che ci sentiamo un tutt'uno con questo nostro mondo, che rispetti i beni comuni, che vorrebbe voglia di ricordarvi che noi ci dobbiamo andare a votare per il referendum per l'acqua, anche se siamo in un ambito che forse non è il caso di dirlo, però mi pare che potremmo dire proprio perché insieme noi riusciamo a costruire un mondo dove riusciamo a trovarci meglio, dove riusciamo a sentirci più noi stessi, dove io riesco a sentirmi più Eugenio Melandro, ognuno riesce a sentirsi più se stesso, perché si specchia nelle facce, nelle storie, nei volti, nei drammi e nella conciutaggine di queste donne che giorno dopo giorno, passo dopo passo, con i loro piedi portano avanti il cammino di questi continenti. L'Africa che cammina merita il nuovo e loro lo meritano davvero. Grazie a tutti.